Ciao, sono Anna Porcaro, Master Crystal Nails, e in questo video vi parlerò di loro, gli amatissimi 3 step. I 3 step sono dei semi permanenti trifasici, ciò vuol dire che oltre alla stesura del colore prevedono l'applicazione di una base e di un top finale. La linea dei 3 step è una linea di semi permanenti dalla perfetta tenuta e dalla coprenza totale, grazie alla loro cremosità e all'alta pigmentazione. Con il suo pennello dal taglio arrotondato la stesura del prodotto risulterà precisa ed omogenea. La confezione presenta un formato da 8 ml e da 4 ml e la fascia colorata intorno permetterà una facilità nella scelta del colore. Per una corretta applicazione del trattamento iniziamo con la preparazione della lamina opacizzandola con il buffer anima rosa. Proseguiamo con lo spray prep per idratare e pulire la cute. Infine nel prep solo sulla lamina ungueale e no buffer scrub che tamponeremo sulla lamina ungueale aiutandoci con un pad. Il primo prodotto che andiamo ad applicare è la base. La stenderò in maniera sottile sull'intera lamina. Basterà una sola stesura che andrà a polimerizzare 90 secondi in led. Proseguo con il colore. Io scelto il 3 step 53, una bellissima tonalità di rosso. Lo applico in maniera sottile su tutta la superficie. Polimerizzo 90 secondi in lampada led. Il risultato sarà coprente già alla prima passata. Io però decido di farne comunque una seconda. Questo per rendere ancora più preciso ed omogeneo il risultato. Anch'esso andrà a polimerizzare in lampada 90 secondi. Termino con il top. La stesura avverrà su tutta la superficie. Andrò a polimerizzare 90 secondi. Il top della linea dei 3 step è un top che rilascerà strato di inibizione. Infatti alla fine andremo a rimuovere la parte appiccicosa aiutandoci con il cleanser. Questo è il risultato finale. Un prodotto dalle alte potenzialità. Come potete vedere la coprenza è eccellente e il risultato è super naturale.